Tradizionale fiera di San Berardo in centro storico a Teramo, organizzata da Confcommercio e Confesercenti, la fiera è giunta alla 23esima edizione ed è un appuntamento immancabile nel giorno della festa patronale di Teramo. Sono circa 200 gli espositori posizionati anche lungo corso San Giorgio, libero dopo due anni dal cantiere. Nonostante il sole, nelle prime ore della giornata, a causa anche del freddo che oggi ha toccato temperature anche sotto lo zero, non si è vista tanta gente tra i banchi della fiera, fiera che resterà in centro fino a questa sera. Gli espositori si sono posizionati tra Corso San Giorgio, Via del Vescovado, Piazza Ursini, Corso Cerulli, Largo Melatini, Via Sant'Antonio, Corso De Michetti, Viale Madre Teresa di Calcutta. Non mancano espositori di prodotti particolari come vimini, ferro battuto e articoli natalizi, oltre ai prodotti tipici. Un importante contributo è stato dato dalla Prefettura di Teramo e dal Comando della Polizia Municipale che hanno curato gli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione di fenomeni legati all'abusivismo e alla contraffazione, coordinando i lavori con l'Associazione Nazionale Carabinieri del Volontariato che hanno presidiato la manifestazione. Un ringraziamento va al Comune di Teramo, agli uffici preposti e in particolare al Commissario Prefettizio Luigi Pizzi hanno spiegato agli organizzatori della fiera che a pochi giorni dal suo insediamento è stato estremamente disponibile e si è dimostrato sensibile alle problematiche della categoria sia relativi alle fiere che al mercato settimanale, permettendo agli operatori di occupare regolarmente tutto il centro storico senza stravolgere la manifestazione e garantendo una buona opportunità di lavoro anche alle attività a posto fisso.